Ma che cazzo è? Oh Gustavo da sedia Gli hanno mandato un messaggio? Volevo a sua mamma Volevo a sua mamma Volevo a sua mamma Ma va tu Volevo a sua mamma Volevo a sua mamma Volevo a sua mamma Guarda Ti do porto a casa? Oh, guarda Guarda, scorda me Sto scappando i tecacar No Guarda Non sto muovendo Dove sei? Sente per me Eh? Volevo a sua mamma No, qui ci abbastanza Sente così Guarda 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 che fai? che fai tu? ma che c'hai? che c'hai? che c'hai? che c'hai? non mi ha detto che fai? che fai? non mi ha detto non mi ha detto che fai? 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 ma forte forte vogliono spedare? che fai? che fai? guardami il culo se vuoi che fai? devi a cagare allora guarda guarda se